a piedi di un maestoso faggio ai piedi c'è un gonfiotto normalmente dove c'è il gonfiotto c'è anche il polcinotto ed infatti questo individuato dalla bruna lo proviamo proviamo a stellarlo la coppia guardate sono biancolatte proprio perché erano coperti dal fogliame ora il fogliame non c'è più e caviamo la coppia di porcini tipico il gambo lungo poi i bianchi è sinceramente è una cosa ancora più bella come dire si stila come si fa con le con le carte si dà un po di giro per non spaccare il gambo eccolo è molto profondità infatti vanno i funghi vanno a cercare l'umido i gambi si allungano nel terreno molto mosso abbiate pazienza lo sto svelgendo piano piano per evitare che si rompa sarebbe un peccato guardate come come era in profondità stato molto lavorioso ma divertente e costruttivo e produttivo stop